È un ottavo di finale equilibrato, avremo noi il 50% e loro l'altro 50% e quindi bisogna fare una partita attenta, bisogna fare una partita dove non dobbiamo esaltare le loro caratteristiche e le loro qualità e bisogna giocare con testa, con grande tecnica perché loro sono anche una squadra molto fisica e bisogna portare il passaggio a Londra perché se vogliamo arrivare a quarta di finale sicuramente il passaggio bisogna conquistarsi da Londra È vero che i singoli contano molto, i duelli contano, però la squadra deve avere il sopravvento e dovremo essere bravi a contenere il loro gioco perché non è solo Henry Kane ma tutte le altre persone che gli fanno arrivare la palla e che giocano per lui hanno un quartetto d'attacco fenomenale, una squadra che sa giocare a calcio insomma il Tottenham è un po' riduttivo nel pensare al Tottenham come solo Henry Kane è un po' riduttivo nel senso